Ma io non commento su questo periodo, noi bulgari siamo felicissimi di stare nella città di Roma, voi per i romani che per i turisti, non chiamoci mai che se Roma è così famosa oggi lo è grazie al turismo e quindi dobbiamo fare di tutto perché i turisti vengano molto numerosi a Roma e possano approfittarsi ovviamente da tutti i monumenti della città, quindi per noi i monumenti devono accogliere i turisti, i romani, gli italiani il più possibile. Ma chiudere non solo l'azione? Non è responsabile, ma sicuramente io sono assolutamente per un'apertura da tutti i monumenti, partendo dal punto di vista che l'essere umano è rispettoso e anche se a volte porto voce non dice sì, io mi... Anche gli stranieri? Prego, innanzitutto gli stranieri, Roma è la città del mondo, Roma ovviamente è romana, però è la città del mondo e quindi deve essere aperta al mondo.